Il punteggio chiaramente, Vico prova ad entrare, Biglia per Aromando Siberna, bella la finta, entra sfortunato, poi Aromando va a recuperare e in alcioposta è entrato Sorrentino, non certamente una buona notizia Poggi prova al tiro, Poggi! Al campo dopo un viaggio precedente in lunetta a segno dall'altra parte subito Giovanni Poggi Prova ad entrare Pastore, lo scarico per Papa, Siberna, libero, si fa ingolosire la tripla Vico, bella Biglia per Papa, super, Canestro Aromando segna, Canestro adesso recupera e poi va a... Per i fotografi! Difficile per lui Aromando, tiro non semplice anche per lui 15 Subito a squadra ospite, trovare pronta Siberna, sbaglia, poi bravissimo Aromando a recuperare palla Pastore per Tomasini, arma al braccio Quattro Vico Pastore Prova la tripla, Pastore! Galassi Galassi prova ad entrare, scarico per se va Vico Prova la tripla, Vico! Con la tabella 63 a 59 Pastore, fuori per Vico Prova la tripla, Vico! 6-8, 6-2 Condedica A tu... A tu... A tu... A tu... A tu... Grazie.